In Piazza Grande, in occasione della 143esima edizione della giostra del Saracino, ci saranno anche loro, gli operatori dell'Agenzia Ombra di Arezzo, al fianco delle forze di polizia per garantire l'ordine pubblico. È una festa per la città, è una rievocazione storica che va avanti da centinaia di anni e è anche un momento di aggregazione di tutta la popolazione avetina, anche con le appartenenze varie dei quartieri, con giuste rivalità che però hanno un limite in tutto. Quindi confidiamo nella intelligenza di tutti quanti perché questa rimanga una festa, perché è una festa, inizia come festa e deve finire come festa. Quindi mi auguro che il supporto nostro alle forze di polizia e a questa manifestazione di rievocazione storica sia marginale e non importante. L'Agenzia infatti non si occupa solo di investigazioni ma di sicurezza a tutto tondo. Anche gli operatori stessi li abbiamo formati internamente a noi e chi poi ha preso altre, abbiamo fatto prendere altre specializzazioni come primo soccorso, anticendio alto rischio, addetti al controllo e quello che sia. Però una qualifica non fa il professionista. Il professionista è colui che si ha la qualifica ma sa stare in campo e sa prevenire le situazioni. Troppo facile sparare. Il difficile è saper capire come fare a non fare quello. Quindi in questo siamo abbastanza all'avanguardia. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.